L'Associazione Romagnola Ricerca Tumori ha dedicato al tema della prevenzione il suo quarantesimo compleanno, inaugurando lunedì 10 febbraio una serie di incontri incentrati sull'intersezione tra l'incidenza dei tumori e i cambiamenti climatici, dovuti in buona parte anche all'inquinamento ambientale. Nella serata di apertura è stato sottolineato il ruolo centrale dei giovani attivisti di Fridays for Future, presenti nella sala conferenza del credito cooperativo romagnolo di Cesena, indicati come fautori di un cambiamento che può ridare speranza perché potrebbe abbassare l'incidenza degli effetti che i cambiamenti climatici stanno avendo anche sulla salute. Il tumore delle persone non ha se per caso ma è dovuto ad ambiente esterno. Abbiamo pensato che era indispensabile far conoscere la gente nell'ambito della prevenzione che significa conoscenza questa serie di iniziative, così conoscendo quelli che sono i cambiamenti climatici, tutto quello che accade in natura e che può influire e far trasformare in cellule tumorali, pensiamo che questo possa essere di utilità al nostro pubblico e alla nostra cittadinanza. Un altro problema molto rilevante riguarda la possibilità che zanzare di tipo tropicale con malattie tipo tropicale come la dengue, come ad esempio cincungunia che ha colpito anche la zona della Romagna, possano diffondersi sempre di più. Cosa si può fare? La cosa principale da fare è ridurre al minimo le combustioni di fonti fossili. Dobbiamo sostituire le fonti fossili con fonti rinnovabili, bisogna usare soprattutto solare, eolico, l'acqua, le maree ma soprattutto un risparmio energetico, una maggiore efficienza energetica che richiede anche cambiamenti di stili di vita.